Buonasera amici sportivi, ben ritrovati a Sport in Casa. Continuiamo a dare spazio e voce ai grandi protagonisti del calcio dilettantistico locale. Ci aspetta una lunga estate ricca di notizie, scop, calciomercato ma anche storie, interviste. Questa sera abbiamo il piacere di ritrovare nei nostri studi il direttore generale dell'Union Eurocassola, Renato Serradura. Buonasera direttore. Buonasera a te Alex e a tutti i tuoi telespettatori. Direttore che merita un plauso perché con il campionato vinto quest'anno siamo a quota 7. 7 campionati vinti in carriera possiamo dire. Sì, sono 7 campionati vinti nei dilettanti per cui sono sempre 7 campionati. Però direttore c'è chi ti batte perché il presidente dell'Eurocassola Stelio Carletto ne ha vinti 10. Lui è alla decima, abbiamo fatto di tutto per regalare al presidente Stelio Carletto la decima vittoria perché innanzitutto è un presidente che merita tutto questo, un presidente che lavora con umiltà, una gran brava persona. Io in tutti gli anni che faccio calcio non ho mai trovato una persona così brava, così a modo, così Stelio Carletto. Così Stelio Carletto, insomma definizione migliore non si poteva trovare, quindi applausi anche da parte nostra al presidente Stelio Carletto che è una di quelle figure rispettate a livello proprio trasversale nel mondo del calcio. Non capita a tutti. Entriamo però adesso nel vivo della puntata di oggi perché insomma parleremo dell'Eurocassola ma dobbiamo parlare di mercato, dobbiamo parlare di Bassano, dobbiamo parlare dell'eccellenza. Quindi insomma tante cose in cui coinvolgeremo il direttore generale Renato Serradura. Allora partiamo dalla conferma di mister Marco Fabian sulla panchina blaugrana. Per qualcuno scontata, però si erano rincorse un po' di voci su un cambio di allenatore, invece avete deciso di premiare il progetto e la continuità. Allora, apriamo una parentesi. Tutte le società che vincono un campionato non è scontato che perché hanno vinto per forza di cose devono confermare l'allenatore. Noi ci siamo fermati, io e Bertoglio, un attimino, abbiamo fatto una riflessione. Dopo aver fatto la riflessione abbiamo ufficializzato il rinnovo di mister Fabian perché? Perché mister Fabian ha dimostrato in un anno e mezzo che lavoriamo assieme di essere un grande mister, di essere un mister preparato. Un mister che perde due partite in un anno e mezzo, miglior difesa finché non abbiamo avuto la matematica certezza e miglior attacco. Si può solo andare avanti con mister Fabian. Assolutamente. A proposito, un commento veloce perché ne abbiamo già parlato tanto della vittoria di questo campionato. Un campionato che qualcuno ha detto si sapeva fin dall'inizio che avrebbe vinto l'Eurocassola. Non è niente vero, è stato un campionato, allora sicuramente noi avevamo allestito una squadra per puntare alla vittoria, però io che da anni faccio calcio è stato il campionato più difficile che ho vinto. Perché è stato un campionato di pandemia, di infortuni, di stop, di riprese, tutta una situazione che è andata a mettersi assieme che era difficile da gestire, molto difficile. Per fortuna io avevo la coperta lunga, non avevo la coperta corta, ma soprattutto avevo 25 uomini nello spogliatoio che hanno saputo far squadra e andare avanti fino alla fine. Direttore, a proposito di questo, mi ha fatto un assist perfetto col contagiri, il direttore Serradura, ha parlato di 25 uomini, quindi ha fatto riferimento alla rosa dell'Eurocassola, una rosa che come verrà adesso gestita in vista del prossimo campionato di eccellenza? Perché insomma, direttore, una cosa è la promozione, una cosa è l'eccellenza. Come stavo dicendo proprio questo, le categorie sono fatte apposta per, si chiamano categorie perché c'è chi può fare la promozione, chi può fare l'eccellenza, chi può fare la prima, chi può fare la serie D. Sicuramente io e Bertollo, che è il mio braccio destro, stiamo valutando chi confermare, chi non confermare e cosa andare a pescare sul mercato. Sicuramente ci sarà un rimescolamento delle carte, ci stiamo già lavorando sopra, molti contatti, molte telefonate, niente di fatto, però questo è il nostro momento. Ma i tifosi dell'Eurocassola e anche gli avversari, cosa devono aspettarsi? Una, chiamiamola, rivoluzione, ci saranno 10, 12, 15 movimenti di mercato? Questo non è il momento che posso sbilanciarmi più di tanto, io dico solo che tutti dobbiamo stare tranquilli, noi siamo gente che ho lì a basso, tu mi hai invitato un miliardo di volte in trasmissione, io ti ho detto avrò in trasmissione quando le cose saranno, le bocce saranno ferme. Confermo. E sono venuto perché le bocce sono ferme, adesso le bocce si stanno muovendo per cui dobbiamo stare tutti tranquilli, ma insomma stiamo lavorando per dare l'ennesima soddisfazione a Steglio, Carletto, non sarà sicuramente la vittoria del campionato, però non lo so, qualcosa succederà, noi intanto ci stiamo muovendo. E intanto l'anno prossimo quello che succederà di sicuro è il derby Bassano-Eurocassola. Sicuramente quello sarà una cosa simpatica, però faccio una premessa, il vero fatturato è dalla sponda dei nostri cugini giallorossi, noi Blaugrana abbiamo un fatturato abbastanza mediocre, per cui se dobbiamo guardare il fatturato si parla di Davide contro Golia, però nella vita non si sa mai, alle volte Golia può fare degli scherzetti particolari, però il Bassano Calcio ha fatto delle scelte importanti, mi sembra che è arrivato a bordo un condottiero, un occhiero importante, tradizioni, vittorie di campionati tra i professionisti. Mandarvi a Pontarollo e chiamare Golia? Lo so perché sai in casa Bassano io ho avuto, sono passato, sono toccate fuga, per cui non mi posso permettere di dare consigli e dire niente. Diciamo che il buon Pontarollo che io conosco bene come un fratello, aveva lavorato bene, però molto probabilmente il nuovo presidente che è arrivato ha i suoi uomini, alle sue cose e giustamente sta facendo una programmazione per arrivare in Serie D, dove è giusto che il Bassano arrivi e io gli auguro veramente di cuore che arrivi il prima possibile. La scelta di Mr. Glerian, queste sono chiacchiere da bar, però le facciamo proprio in attesa che parli il campo, perché lo ripetiamo spesso, magari poi saremo smentiti e sarà una cavalcata trionfale fin dalla prima giornata. Però per chi conosce bene Mr. Glerian, la scelta di puntare su un allenatore così vuol dire avere grande progettualità, vuol dire affidarsi a una persona di grande competenza e di grande esperienza, che però ha sempre ottenuto risultati sul medio-lungo termine, non il primo anno che si arriva. Perché molto probabilmente avranno, a prescina che io gli auguro di avere dei risultati veloci, perché ripeto la piazza è una piazza importante, è una piazza che è abituata ai professionisti, perché è giusto che al minimo il Bassano arrivi in Serie D. Però conoscendo il Mr. che io lo conosco personalmente, lo saluto, gli faccio un grosso in bocca al lupo, conoscendolo ti stavo dicendo, lui è uno che anche a Marostica, sono 4 anni che lavora, sta raccogliendo i frutti adesso, adesso purtroppo di cose se ne sta andando, ma sicuramente lascerà a chi di dovere tutto quello che ha seminato. Però Mr. Valera è uno che, per quello ti ripeto che conosco io, fa del progetto il suo stile di vita, per cui non è un mordi e fuggi e via, secondo me è l'uomo più giusto per arrivare a fare determinate cose con qualche anno, ma sicuramente arriverà dove vuole. Direttore, con Luca Bertollo è stato citato più volte, state un po' scandagliando il mercato, conoscete molto bene il mercato della zona, che mercato sarà quello dell'eccellenza? Perché tanti direttori sportivi, a partire anche dal direttore sportivo del Bassano, si stanno muovendo, che mercato sarà? Beh, innanzitutto io mi sento in imbarazzo perché a Bassano ho letto su tutto campo che hanno il miglior direttore sportivo che la piazza offra, per cui sarà difficile andare a fare mercato a Bassano nella zona… Però sarà un mercato come tutti gli anni, ci saranno offerte, ci saranno un sacco di chiacchieri, poi chi vivrà vedrà e venga il migliore, ma il migliore come progettualità, non come fatturato da buttare. Perché ti ripeto, noi personalmente a Eurocalcio abbiamo già il nostro budget ben definito e da là non si sfugge ed è un budget per fare un campionato non di vertice, ma vedremo di lavorare bene. Durante questo periodo più che altro sono le scommesse che i direttori fanno se le sanno vincere o meno. Perché se uno ha un sacco di soldi va, apre l'album delle figurine e fa la spesa, se invece gente come noi che facciamo calcio perché non è un nostro divertimento, dobbiamo saper vincere delle scommesse. Che è un po' lo stile, permettimi di dire, del cartigliano. Ad esempio io ti interrompo, scusami che faccio, sembra che faccio io il conduttore. Il co-conduttore. Però io dico sempre che il vero esempio nella zona da seguire, devo fare un chapeau a Bon Leopoldo, per non dire tutta la società, ma è il cartigliano. Perché il cartigliano tutti gli anni va a pescare dei giocatori che durante l'anno di dire, ma chi è quello, chi non è quello, poi si viene a scoprire che sono andati a pescare giocatori in promozione, in eccellenza e sanno fare calcio. Per cui io dico sempre che Torresin è sempre il migliore direttore sportivo che c'è in piazza. Direttore, a proposito di questo, vorrei coinvolgerti su una valutazione veloce. Quanto pesano i procuratori nel mercato di oggi, fra i dilettanti? I procuratori sono male necessari. Perché sono male necessari? Perché io personalmente cerco di avere meno possibile contatti con i procuratori, perché il procuratore è un costo. E' anche vero che però il procuratore in alcuni casi ti risolve il problema in alcuni ruoli dove effettivamente non sai dove andare a sbattere la testa. Quest'anno, ad esempio, la federazione ha pensato bene di chiudere il 2001, aprire il 2004. Dopo due anni di pandemia tu capirai che il 2004 ha fatto un anno di allievo, mezzo anno di junior, si ritrovano a giocare in eccellenza in serie D in promozione. e noi direttori non sappiamo dove andare a pescare, per cui la figura del procuratore può essere una figura importante per darti una mano nel completare la rosa. Però fondamentalmente a sti livelli il procuratore mi sembra un po' una speculazione. Direttore, in chiusura, l'obiettivo per il prossimo campionato qual è? L'obiettivo per il prossimo campionato è fare 40 punti nella maniera più veloce possibile. Poi il Presidente mi ha detto che intanto arriva a 40 punti, quando è dicembre valutiamo e se ci sarà da fare qualche innesto perché la classifica ci sorride siamo pronti a farlo. Se per caso non è così valuteremo le cose, però sicuramente noi siamo una società ambiziosa e non faremo una squadra tanto per fare. Questo te lo garantisco. E allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata. Però posso farti una domanda Alex? È conduttore. Eh, volevo farti una domanda perché ultimamente vedo che hai un fascino un po' particolare. Ma chi è l'ottico che ti fa gli occhiali Alex? Perché ti devo fare i complimenti. È un conflitto di interesse, cosa dobbiamo dire? Allora, l'ottico, il mio ottico di fiducia è il direttore... Complimenti, hai fatto una scelta ottima. E allora, è con questa battuta, ma ci sta perché siamo in estate ormai, i campionati sono finiti, quindi chiacchierate così. Stiamo scherzando. In simpatia, gli occhiali sono merito del direttore generale Serradura, però insomma tutto il resto ce lo metto io in abbondanza, va bene? Sì, sì. Allora, grazie, grazie Renato Serradura. Grazie a te Alex, è sempre un piacere unire da te. Grazie mille per la disponibilità, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche questa sera, appuntamento a domani. Arrivederci.